Traffico da Bollino Rosso per il ponte del 2 giugno, quando gran parte degli italiani approfitteranno di una gita fuori porta o di qualche giorno di vacanza, vero e proprio. Secondo le stime di Autovie Venete, il traffico sarà intenso il 1 giugno, in particolare dal pomeriggio sulla tangenziale di Mestre e sulla A4 in direzione Trieste. Si prevede infatti un grande afflusso di mezzi pesanti, in particolare in A4, mezzi diretti verso il centro-est Europa prima dello stop alla loro circolazione. Il blocco inizierà venerdì 2 giugno dalle 7 alle 22. Per quel che riguarda le giornate di venerdì e sabato, in particolare durante la mattina, atteso traffico sostenuto in entrambe le direttrici della A4, con possibili code in prossimità dei caselli e degli svincoli balneari. Domenica 4 la giornata sarà tranquilla, quando tornerà il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22, con intensificazione dei transiti dal pomeriggio in direzione Venezia per il rientro dei turisti e dei pendolari del mare.